Abruzzo, Regione Cenerentola d'Italia, nell'andamento delle imprese artigiane nel primo trimestre dell'anno, anche se per ora le misure varate durante la crisi da governo e regione hanno scongiurato effetti ancora peggiori. A dirlo, numeri alla mano, è un rapporto redatto sui primi tre mesi del 2021 da Aldo Ronci per conto della CNA Abruzzo, che dà un'idea di quello che si sta muovendo attorno al mondo della microimpresa regionale. Il risultato dello studio, realizzato su dati di movimprese.it relativi ai mesi di gennaio e marzo, dicono che le imprese artigiane abruzzesi flettono in misura nettamente minore rispetto agli ultimi anni, ma registrano comunque un decremento percentuale dello 0,91 pari a quattro volte quello medio italiano, che è dello 0,23. Ed è così che si spiega la collocazione all'ultimo posto nella graduatoria tra le regioni italiane. Nel primo trimestre del 2021 le iscrizioni delle imprese artigiane sono state 449 con 716 cessazioni, con un decremento netto di 267 unità. Cifre che però, viste in controluce, in combinazione cioè con quelle percentuali, dicono anche altre cose. Perché se è vero che l'incremento delle cessazioni nella nostra regione si attesta al 24% contro una media nazionale del 2018, le iscrizioni flettono di un pesante 15% contro invece un incremento medio nazionale del 6%. Ed è dunque da questa combinazione negativa che nasce l'ultimo posto in classifica. I numeri negativi si spalmano un po' su tutte le province. Con Chieti e l'Aquila rispettivamente a meno 83 e meno 72, Pescara e Teramo attestate su dati un po' meno negativi, meno 49 e meno 63 unità. Cifre queste che pongono i territori del Chietino e dell'Aquilano al quartultimo e quintultimo posto tra le province italiane. Tra i settori infine più in difficoltà ci sono le costruzioni con meno 96 e i servizi alla persona, meno 65. Poi il manifatturiero, meno 49, concentrato soprattutto in alimentari, abbigliamento e articoli in pelle.